Ciao a tutti youtuber, sono all'università di Fabia e devo dire che c'è un po' di gente, non so se lo vedete, c'è il mercatino del usato, riusato, come diavolo si chiama, se io continuo a girare ovviamente ecco, stavo da perdendo, ok, ritornerò dall'altra parte, vabbè, quindi ho trovato un sacco di cose anche carine, devo dire, però se troppa gente, io veramente sto diventando matto. Giusto per darvi un'idea di com'è la situazione, però c'è qualcosa che... ho trovato comunque due libri di Harry Potter che non sono belli di più, uno gli manca la sovracoperta, però sai, si accontenta sempre, adesso sto cercando di vedere se riesco a trovare qualcos'altro, ma non è neanche tanto facile, Quindi adesso vediamo un po', con la fortuna che ho io tra l'altro, ma dubito fortemente che riuscirò a trovare qualcosa di interessante e ve lo ripeto, c'è troppa, troppa gente, quindi non si può fare veramente nulla, quindi non è troppo bello. In realtà io sto cercando un libro, che sicuramente non troverò, oggi tra l'altro non dovevo essere da solo, me la pagherai Alice per avermi abbandonato, sappilo. E niente, quindi adesso vediamo se riesco a trovare qualcosa, se no, che ne avevo visto uno solo, che è talmente grossa all'università di Pavia, che non mi ricorderò mai, mai dove l'avevo visto. Quindi adesso continuerò a fare un giro e vediamo se trovo qualcosa. Ma non è facile, perché, a parte che io con le mie lenti non vedo un capo, però io adesso in casa ho una maria di libri, che non so neanche più dove mettere, e infatti mi serve assolutamente una nuova libreria, perché se no io non so assolutamente come farò a muovermi, e infatti ho il panico. Cosa assurda, sto girando completamente a caso. Cioè, sapere dove cazzo sto andando. Che comunque si, potete vedere, non credo di essere venuto di qua, però, comunque sia. Adesso sto cercando di capire se trovo quel benedetto libro, aspetta, ho visto degli altri libri, panico, vado a vedere. Ok, forse ce l'ho fatta, cioè, praticamente ho speso tutto quello che avevo, cioè, sono un coglione. Già non so dove mettere i libri, vabbè, ce ne faremmo una ragione. Niente, allora, ce l'ho fatta ad uscire dall'università, e devo dire che era meglio che non andavo, però fa niente. Dai, comunque ho trovato un sacco di libri a poco. Sì, poco, poi facendo nel mucchio non è che ho speso poco, però fa niente, no, per me, eh, sto parlando sempre per il valore che ho io dai soldi. Però fa niente, dai, almeno ho qualcosa che ho cavato su, e non vedo l'ora, infatti, di finire il trono di spade, così almeno posso anche iniziare questi qui. No, non è vero, perché ho altri libri da leggere prima, fa niente, però almeno so che ce li ho, non so dove li metterò. Vabbè, ci penserò. Venderò un'altra libreria. E niente, adesso forse andrò, andrò alla Mondadori. Sì, devo andare alla Mondadori, ecco cosa farò. Sì. Sì.